Prima prova del Coro Giovanile del Canavese. Siamo arrivati alla prima prova, è già un qualche tempo che pensiamo a questo progetto, visto che lavoriamo nella coralità da parecchi anni, per cui mi pareva giunto il momento di cominciare questa nuova avventura. Giovanile, quindi che range d'età? Il range l'abbiamo abbastanza tenuto, abbastanza largo, nel senso che così diamo la possibilità a più ragazzi di partecipare, quindi dai 18 ai 35 anni. Abbiamo però qualche adesione anche di qualche ragazzino di 16 anni, quindi non siamo così fiscali. Requisito fondamentale è la passione per il canto? Requisito fondamentale è la passione, la volontà, la voglia di imparare, di stare insieme, di divertirsi con la voce e con il canto. Prima prova, quindi arriveranno appunto gli allievi, i componenti del Coro Giovanile, come si proseguirà poi? Sì, allora abbiamo fatto delle piccole audizioni, poi abbiamo un po' sparso la voce anche fra quelli che conoscevamo, a cui poteva interessare, eccetera, e quindi si svolgerà, insomma faremo questa prima prova per vedere di mettere insieme queste nuove voci giovanili e sperando che da questo ne esca qualcosa di buono. Si potrà ancora aderire se qualcuno volesse? Certo, siamo sempre aperti anche perché il progetto, come dico, parte proprio questa sera, per cui da adesso si potrà aderire venendo direttamente alle prove che faremo in futuro, che comunicheremo facendo una piccola audizione, ecco, anche solo per vedere il tipo di vocalità che ogni componente ha e vedere il grado di intonazione e di preparazione, ecco, così da poterlo collocare, diciamo, nella giusta sezione. Grazie.